Una giornata tutti insieme ad Alessandria come nel resto d'Italia all'insegna della solidarietà e della partecipazione alla vita cittadina. I 18 Lions Club dell'Alessandrino con i club junior dei Leo hanno scelto per l'edizione 2016 il capoluogo di provincia per fare festa e hanno giocato al raddoppio offrendo alla popolazione una a due giorni di incontri, di partecipazione ad eventi sportivi, di controllo della salute, di riflessione, di concreto aiuto alla comunità. In piazzetta della Lega è stato allestito un vero e proprio villaggio Lions con camper e gazebo dove si sono potuti effettuare screening gratuiti cardiologici, oftalmici, dentistici, aperti a tutta la cittadinanza. Al centro di un impegno che dura tutto l'anno ci sono i service che hanno spaziato dal sostegno all'ospedale infantile con la grande raccolta fondi promossa nella settimana dal 9 al 17 aprile a quella degli occhiali usati che inviati nei centri Lions per essere puliti e sistemati ridaranno vista a persone povere in tutti i paesi del mondo. Quello portato avanti da questi membri quotidianamente in silenzio e senza ostensazione è amore vero verso la propria città che si concretizza in gesti di affetto per l'ambiente come la piantumazione della rotonda di Porta Marengo donata alla città dai Lions Club Alessandria Marengo in occasione dei vent'anni dalla fondazione o nei confronti di chi è portatore di una disabilità e necessita di cure e di aiuti concreti come nel caso della donazione di un cane guida che ha dato così la possibilità a chi non ha il dono della vista di sostituire il bastone bianco con un vero e proprio amico fidato che si rivela essere un ottimo mezzo di socializzazione. Tanti, tantissimi gli eventi portati avanti in 365 giorni in collaborazione con l'Associazione Commercianti o con l'Alessandria Calcio con le istituzioni o con personale medico con la consapevolezza che è possibile valorizzare ciò che si ha attorno come nel caso dei negozi, delle pasticcerie e del centro storico vestito a festa per l'occasione. Il Lions Day è culminato con il concerto conclusivo svoltosi nell'auditorium di Via Parma 1 curato dalle allieve e dagli allievi del Conservatorio di Musica Antonio Vivaldi che, attraverso le loro note, hanno trasmesso l'entusiasmo dei Sochi Lions e la loro determinazione nel soccorrere chi soffre. Sono state inoltre premiate le vetrine più belle ed è stata assegnata a Don Maurilio Guasco l'onoreficenza Melvin Jones Fellow per l'opera svolta per la comunità.